E la società com'è cambiata? La gente... Secondo me è un po' più distratta, un po' più... a meno, come dire, a meno slanci. I miei anni 90 erano, nel bene e nel male, più presenti, più forti. Vorrei un ritorno alla spinta, all'ideale, alla voglia di confrontarsi. Mi sembra che sia tutto da un weekend all'altro.